Ritardi fino a un'ora nei convogli del Ravennate nella mattinata di venerdì 5 luglio. Per ragioni di sicurezza i treni sono stati bloccati e la polizia ferroviaria si è precipitata per conoscerne i dettagli. Tuttavia, inizialmente gli agenti non hanno riscontrato anomalie così da permettere il ripristino della circolazione dei treni, con i ritardi accumulati. Ciononostante, pendolari e turisti hanno atteso a lungo il loro binario o hanno rinunciato al loro viaggio. Inoltre, tra Castel Bolognese e Russi si sono verificati disservizi. Alla stazione di Lugo sono stati annullati alcuni treni. Nel frattempo sembra essere stato individuato un guasto alla linea elettrica, così da rendere necessaria una deviazione per faenza dei treni della linea Bologna-Ravenna, tra Russi e Castel Bolognese. Visti i disagi, sono stati predisposti i servizi di trasporto con autobus.